Oggi a Milano si è svolto l'Oracle Partner Executive Program che è l'appuntamento annuale di Oracle in cui vengono presentate tutte le nuove strategie per il canale un appuntamento molto importante in cui si sono visti quali sono gli elementi di novità rispetto al passato e che caratterizzeranno la strategia per quest'anno Parliamo con Paolo Beccarelli di Computer Gross che è un distributore delle tecnologie Oracle e con il responsabile all'interno di Oracle Italia del canale Allora, qual è il ruolo oggi di un distributore nel mondo del cloud e nel rivendere e nel proporre sul mercato le tecnologie di Oracle? Allora, con Oracle abbiamo creato un progetto cofinanziato che è nato ormai nel 2017 è stato un progetto pilota a livello EMEA perché ha portato Computer Gross e quindi la parte di distributore ad aiutare l'ecosistema dei partner Oracle verso il cloud quindi cerchiamo di supportare con l'aiuto di Oracle i nostri partner sul cloud quindi dandogli competenze, know-how, facendo workshop, tutta in forma gratuita questo appunto per spingere i vari partner a poter rivendere e essere focalizzati sul cloud Oracle E qual è l'importanza per Oracle della relazione con un'azienda come Computer Gross? È fondamentale, l'enablement che riescono a realizzare sui partner che noi non copriamo e quindi farli crescere perché è un percorso loro li fanno crescere per poi diventare partner a valore è fondamentale vuol dire anche tanta competenza all'interno di Computer Gross loro hanno tecnici specializzati è un progetto che è diventato un pilota a livello EMEA è un'esperienza sicuramente che ci ha reso un'altra volta l'Italia come Italia eccellenza a livello EMEA è un'esperienza sicuramente che ci ha reso un'altra volta l'Italia come Italia eccellenza a livello EMEA EMEA